Professore, si parla sempre di questa scarsità di risorse, di bisogni di nuove fonti di energia, anche alternative, ma secondo lei qual è la situazione? Come deve rispondere anche la nostra società? Io penso che il problema più grave per quanto riguarda l'energia non sia la scarsità di risorse o la mancanza di potenzialità delle fonti rinnovabili o i problemi connessi con l'energia nucleare, ma sia il problema della disinformazione purtroppo diffusa in tutta la gente che crea grossi problemi alle realizzazioni. Ma secondo lei la situazione di quella che è proprio il suriscaldamento del nostro pianeta è reale, è motivabile, da quali situazioni? Io penso che ci sia una grande mistificazione che vuol far risultare che i cambiamenti climatici in atto, che non sono solo di riscaldamento, perché se noi andiamo a vedere la storia del clima negli ultimi 150 anni in cui ci sono veramente le misure abbastanza precise di temperatura, si vede che la temperatura è diminuita alla fine dell'Ottocento fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Poi fra la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale c'è stata una forte crescita. Poi dal 1945 ancora è scesa fino al 75-76. Poi da quel periodo lì ha ripreso una forte accelerazione, un aumento che si è però stoppato nel 1998 che è l'anno più caldo del periodo che stiamo considerando, quello in cui ci sono le temperature. Dal 1998 ad ora la temperatura è o in leggera discesa o stabile, mentre la concentrazione di CO2 nell'atmosfera è sempre aumentata regolarmente. Ora la CO2 che va nell'atmosfera dovuta ai combustibili fossili è il 3% del totale della CO2 che viene immessa ogni anno in atmosfera. Questo fa in maniera tale che variazioni anche modeste dell'altro contributo, il contributo naturale che è ovviamente il complementare 97%, può mascherare fortemente l'effetto delle emissioni antropiche. Io non credo che le emissioni antropiche siano responsabili dei cambiamenti climatici, anche perché, ho detto, i cambiamenti climatici sono su e giù. E inoltre si nota che sempre quando ci sono degli anni molto caldi, questi coincidono con il fenomeno di El Nino, che è un fenomeno di riscaldamento delle acque del Pacifico, che salgono vicino all'Australia da sotto, chissà perché, molto calde, e vanno a colpire la parte sud, il lato occidentale dell'America del sud, dando luogo a quel fenomeno di crescita, come si può dire, facile, di tutta la vegetazione che viene chiamato appunto El Nino. Sempre si ha massima temperatura media mondiale in corrispondenza al fenomeno di El Nino, che è un fenomeno naturale, noto da più da 15.000 anni.